Grazie. Per me è stato davvero un viaggio meraviglioso poter entrare nel mondo del maestro Ennio Morricone, scoprire i più grandi colome sonore, guardare i film, riscoprire quei film che hanno fatto parte di tutti noi, come il nuovo Cinema Paradiso, questo è il tema d'amore del grande film di Giuseppe Tornatore. E invitiamo anche i più giovani a guardare questi film che magari non li conoscono, ma per noi è stato veramente emozionante scoprire queste colonne sonore e fare questo viaggio. Nel 2020, durante il Covid, stavamo pensando appunto a quale progetto intraprendere e per noi è stato davvero un grande onore e privilegio poter interpretare le melodie più belle che hanno fatto sognare tutti noi, dai più grandi ai più piccoli. E adesso dalla Sicilia ci spostiamo in Spagna, canteremo un brano che ha accompagnato il nostro percorso artistico, un brano che ci mette anche alla prova. Tutti voi conoscete Granata. Grazie. 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 Grazie.